L'ostetrica o l'ostetrico partecipano alla prevenzione ed all'accertamento dei tumori della sfera genitale femminile. È scritto a chiare lettere nel decreto ministeriale 740 del 94 che in individuo il profilo professionale, eppure poche donne lo sanno. Qual è nella pratica il ruolo di questa professione sanitaria nell'ambito della prevenzione? Svolgono un ruolo fondamentale e cruciale per quanto riguarda la prevenzione, un ruolo che viene ascritto a loro già a partire dal decreto ministeriale 740, il cosiddetto istituzione profilo professionale dell'ostetrica. Un ruolo che le ostetriche italiane stanno portando avanti anche con grande sacrificio e dedizione, grande deontologie e amore per la propria professione in questo momento in cui è necessario recuperare le liste d'attesa, perché ricordo che la pandemia ha messo a dura prova non solo ai sistemi sanitari di urgenza e emergenza, ma anche per quanto riguarda gli aspetti di prevenzione. A loro viene demandato dalla legge, quindi dal decreto ministeriale 740, l'aspetto della prevenzione, che esplicano mediante sia una prevenzione primaria che una prevenzione secondaria. Per quanto riguarda la prevenzione primaria, le ostetriche diffondono informazioni scientificamente validate, permettendo così alla donna un empowerment per quanto riguarda le scelte consapevoli e idonee per il proprio stato di salute o per il mantenimento del proprio stato di salute, quindi come si esegue una corretta autopalpazione, oppure quali sono le tempistiche idonee affinché si acceda in maniera corretta ai programmi di screening, di prevenzione di alcuni tumori, quindi delle varie regioni. Anche aderendo a quello che è il piano nazionale di prevenzione, che prevede tra i suoi macro obiettivi anche quello della riduzione delle patologie croniche e non trasmissibili come alcuni tumori. E poi ha un ruolo fondamentale per quanto riguarda l'organizzazione e la conduzione dei programmi di screening, quindi la cosiddetta prevenzione di secondo livello, sia per quanto riguarda gli aspetti della mammografia e quindi di autopalpazione e mammografia per quanto riguarda quindi il tumore della mammella, sia per quanto riguarda gli aspetti del tumore del collo dell'utero. Dall'1 al 7 ottobre si è celebrata la SAM, la settimana per l'allattamento materno. È un'iniziativa voluta da una rete internazionale patrocinata soprattutto dal BABA, che è la World Alliance for Breast Feeding Act. Le ostetriche partecipano a questa iniziativa con grande coinvolgimento, considerando il loro fondamentale e cruciale ruolo per quanto riguarda la promozione e la protezione e il sostegno dell'allattamento al seno. Il ruolo dell'ostetrica si esplica già a partire dalla gravidanza, quando trasferisce corrette informazioni validate scientificamente alla donna affinché possa scegliere in maniera consapevole, quindi lontano da tutto quello che è un po' la pubblicità ingannevole, quale tipologia di alimentazione garantire al proprio bambino. Durante il travaglio e il parto l'ostetrica garantisce il precoce per la pelle, quindi nel luogo del parto, favorisce quello che si chiama l'attaccamento precoce, il bonding tra madre, bambino e padre. Garantisce la corretta transizione genitoriale nei momenti in cui si viene dimessi, garantisce nelle attività post natali quelli che potrebbero essere il sostegno per i cosiddetti allattamenti difficili, sostenendo la donna e trasferendo informazioni necessarie affinché si possano superare quei piccoli problemi o anche quei grandi problemi che possono nascere nella gestione di un allattamento. inoltre favorisce la diffusione di informazioni necessarie affinché si venga a creare quella rete di sostegno necessaria affinché l'allattamento sia duraturo per quella donna e per quel bambino o per quella bambina.